A fine mese i dipendenti rischiano di rimanere senza stipendio e allo stesso tempo potrebbero chiudere i battenti, le aziende sanitarie private per cui lavorano. La denuncia è di Giovanni Severino, presidente della sezione Sanità dell'Unione Industriale di Napoli, nel corso di un incontro tra i rappresentanti dell'ospedalità privata e i sindacati. Le aziende continuano a non essere pagate dalla Regione Campania per le prestazioni effettuate in regime di accreditamento. Siamo ormai in possibilità totale di poter proseguire nelle attività. Tenga conto che anche per il 2011 ormai siamo stati pagati con un acconto di gennaio-febbraio e un piccolissimo acconto di marzo. Quindi non c'è più nessuna possibilità, non abbiamo più nessun sostegno bancario né niente, quindi siamo costretti a dare un default delle attività. L'appello alla Regione Campania al fine di trovare le risorse necessarie per sbloccare i pagamenti arretrati arriva anche dal presidente di Federfarma, Michele Di Iorio, e dal numero uno dell'IOP, Sergio Crispino. Siamo al limite di praticabilità economica per continuare a garantire la distribuzione dei farmaci, tra i quali salvavita, ai cittadini di Napoli e della provincia. Noi viviamo il paradosso in Regione Campania di un mancato governo della crisi perché c'è un silenzio tombale su azioni da intraprendere a sostegno delle imprese per crediti che le imprese vantano. In una situazione del genere assistere al fatto che è eclatante che l'Italia si finanzia con sette punti del famosissimo spread e la Regione Campania voglia finanziarsi non pagando i fornitori di servizi è davvero paradossale.